Canto 12 Quel luogo dove arrivammo scendendo quella ripa di pietre franate era incredibilmente impervio e tremendo. Tutto quello che c'era faceva nascere il desiderio di evitare di osservarlo. La pendenza di quel burrone assomigliava a quell'antica frana che a causa del terremoto o per naturale erosione precipitò nell'Adige a Valle di Trento, frana in cui, dalla cima del monte da cui essa è iniziata al punto in cui è terminata, la sua roccia è così ripida da lasciare ben poche vie a chi volesse scendere. Sull'orlo della china della costa franata era disteso il Minotauro. Lui era l'emblema della vergogna di Creta, perché nato appunto da sua madre Pasifae e concepito da un toro dentro ad una vacca di legno. Quando il Minotauro ci vide, morse se stesso in un istintivo gesto di stupida ira, così come colui che dentro di sé cerca di reprimere un attacco d'ira. Il mio saggio Virgilio allora gli gridò, «Forse tu credi che sia tornato qui Teseo che ti uccise lassù nel mondo, quando ancora vivevi? Allontanati subito, brutta bestia! Perché colui che io accompagno non viene spinto ed incoraggiato da Arianna, tua sorellastra figlia di Minosse e di tua madre Pasifae. Bensì andiamo noi due insieme a vedere e conoscere le vostre pene di quaggiù». Così, come quel toro che si scioglie dai lacci in un ultimo sforzo supremo, quando però ormai ha già ricevuto il colpo mortale e che non sa fuggire perché è ormai morente, e allora sbanda qua e là disorientato senza più alcuna possibilità di salvezza, così si vide fare al Minotauro. Allora Virgilio, resosi conto della furia cieca della bestia, mi gridò, «Presto! Corri verso il varco! Ora, mentre la bestia è cieca e furiosa! Questo è il momento buono per passare e scendere!» Così prendemmo giù per lo scarico di quelle grigie pietre rotte e franate che si muovevano di più sotto il mio peso. Io iniziai a pensare, e Virgilio disse, «Tu forse pensi a questa frana, a questo luogo in cui è messo a custodia quella bestia e rosa, il Minotauro che poco fa ho reso innocuo ed impotente? Ebbene, voglio che tu sappia che l'altra volta, quando io discesi qua giù nel basso inferno, questa frana non c'era ancora. Però ritengo che poco prima che Gesù venisse a togliere dal cerchio superiore dell'inferno, cioè dal limbo, le anime dei patriarchi, questa profonda e sozza valle, questo abisso infernale, tremò. Il terremoto quindi avvenne la morte di Cristo, e la scossa fu così violenta che io pensai che l'universo sentisse amore, cioè come se gli elementi della materia sentissero amore, attrazione reciproca, tornando a mescolarsi nel caos. Ed in quel punto dove c'era il Minotauro, ed anche in altri luoghi, come nel cerchio dei lussuriosi, o in altri punti, come nella bolgia degli ipocriti, quest'antica roccia presenta simili franamenti. Ma ora guarda laggiù, perché si avvicina il terzo fiume infernale, pieno di sangue bollente, nel quale ardono coloro che hanno peccato di malizia, nuocendo ad altri con violenza, quindi i violenti contro gli altri. Oh, cieca violenza contro gli averi degli altri! Oh, irafolle contro le persone, come l'usura, che nella vita terrena ci tentate, ci spronate malamente, e poi ci immergete con tanto male e dolore nel sangue! Vidi allora un ampio fossato ad arco, cioè il fiume stesso, che abbracciava tutto intorno il settimo cerchio, proprio come m'aveva detto la mia guida, e tra il punto più basso della ripa franosa e la fossa stessa, quindi sulla riva esterna del fiume di sangue flegetonte, correvano in fila centauri armati di frecce, così come in vita solevano andare a caccia. Tutti quei centauri, vedendoci scendere, si fermarono, e dal gruppo si staccarono subito tre di loro, con archi e frecce, pronte al tiro. Pronte al tiro! Ed uno gridò da lontano, — Quale pena venite a scontare alla quale siete dunque destinati, voi, che scendete la costa! Ditecelo subito da costì dove vi trovate, se no tiriamo l'arco! Allora il mio maestro rispose loro, — Daremo la risposta a Chirone, che è il capo dei centauri, là vicino, ed in quanto a te, Nesso, disgrazia fu per te il fatto che tu fosti sempre così precipitoso nell'agire. Poi Virgilio mi toccò leggermente per richiamare la mia attenzione, dicendomi, — Quello che ha parlato è Nesso, che morì per la bella Dejanira, moglie di Ercole, della quale si innamorò e tentò di rapire. Ercole lo ferì a morte con una freccia intrisa del sangue velenato dell'idra di Lerna. Allora Nesso si vendicò, regalando a Dejanira la sua veste, intrisa di quel sangue velenato, facendole credere che essa avrebbe fatto innamorare chi l'avesse indossata. La donna, per riavere l'amore di Ercole, che la tradiva con Iole, gliela fece indossare, ed Ercole impazzì, divenne furioso e morì. Il centauro nel mezzo che tiene la testa sul petto in senso meditativo, diverso da quello impulsivo di Nesso, è il grande Chirone, precettore di Achille. Quell'altro è Folo, che fu così pieno di ira. Vanno a schiere numerose intorno al fossato, tirando frecce ai pecatori, anime violente. Se non stanno immerse nel fiume di sangue secondo la gravità della loro pena, che pur nel suo genere, può essere più o meno grave. Infatti esse tentano di uscire più di quanto la loro stessa colpa glielo acconsenta. Noi ci avvicinammo a quelle fiere veloci ed agili. Chirone allora prese una freccia, e con la punta scostò la barba dalle mascelle, scoprendo la bocca. Quando ebbe la grande bocca più scoperta, disse ai suoi compagni, «Vi siete accorti che quello di dietro muove le pietre su cui cammina? In genere i piedi dei morti non provocano quest'effetto». Allora il mio buon duca, che era già vicino al busto del gran centauro, punto in cui la natura umana e quella del cavallo sono fuse insieme, rispose, «Costui è davvero vivo, e così solamente a lui devo mostrare l'inferno. Ciò è per necessità e per la sua salvezza, e non certo per divertimento. Un'anima beata sospese le sue lodi al Signore in paradiso per venire da me ed incaricarmi di questo nuovo compito e predispose di accompagnarlo in questo viaggio. Egli non è dunque un pecatore né un violento né io lo sono. In nome di quella potenza divina per la quale io cammino per questa strada impervia e selvaggia, permetti quindi ad uno dei tuoi centauri qui vicini di accompagnarci là, dove possiamo attraversare ed anche portare Dante sulla sua groppa, in quanto non essendo esso uno spirito, non può attraversare il fiume senza il pericolo di sprofondarci. Chirone allora si voltò indietro sul lato destro del petto e disse a Nesso «Torna subito indietro e guida Costoro verso il fiume e fai scansare le altre schiere che vi dovessero intralciare il cammino». Quindi ci muovemmo con la fedele e sicura scorta di Nesso lungo la sponda del fiume che ribolliva di sangue, da dove le anime immerse e lanciavano alte grida. Io vidi anime immerse fino agli occhi ed il grande centauro Nesso disse «Essi furono tiranni e violenti contro le persone e contro i beni e vissero nel sangue e nel furto. Qui si espiano i danni spietati che sono stati compiuti. Qui vi è Alessandro il Grande ed il feroce Dionisio, tiranno di Siracusa che procurò alla Sicilia anni di dolore e quella fronte che ha i capelli così neri appartiene a Ezzelino III da Romano, tiranno della marca trevigiana capo dei Ghibellini. E quell'altro biondo è Obizzo II d'Este, marchese di Ferrara e della marca di Ancona, il quale per la verità fu ucciso dal figlio Azzo VIII che gli successe lassù nel mondo terreno. Allora mi rivolsi a Virgilio e lui mi disse «Questi ti sia ora durante questo tragitto la principale sicura guida ed io vi seguirò». Poco più avanti il centauro si fermò vicino alle anime degli omicidi, immerse fino alla gola, come nel fiume Bulicame, di cui si narrerà in seguito. Nesso ci mostrò un'anima solitaria, dicendo «Costui trafisse pugnalò in una chiesa di Viterbo il cuore che a Londra sul Tamigi ancora si venera». Poi vidi gente che teneva la testa e tutto il busto fuori dal fiume e ne riconobbi parecchi. Così si faceva sempre più basso il fiume di sangue fino a bagnare e scottare solamente i piedi. Quindi giungemo al guado, cioè al punto in cui si poteva attraversare il fiume praticamente bagnandoci solo i piedi. «Così come tu da questa parte del guado vedi il fiume costantemente meno profondo e puoi pertanto vedere i pecatori emergere maggiormente del suo sangue?» disse il centauro. «Voglio che tu sappia che dall'altra parte di questo guado il letto del fiume diventa invece sempre più profondo fino a congiungersi con il punto di maggiore profondità dove sono puniti i tiranni. La divina giustizia da quella parte del guado punisce Attila che in terra fu un flagello per gli uomini mentre appunto qui è solo un povero dannato e Pirro crudele figlio di Achille che uccise nella conquista di Troia il figlio di Priamo davanti agli occhi del padre e quindi il crudele Corsaro VI figlio di Pompeo. Poi il fiume eternamente fa scaturire con il tormento del sangue bollente lacrime e dolore a Riniere de Corneto famoso ladrone della Maremma e protettore di ladri e banditi e fa soffrire anche Riniere dei pazzi di Valdarno anch'esso famoso ladro e bandito delle strade che fece tanta guerra e tanto male nei territori del Valdarno fino ad Arezzo. Tutto questo mi fu spiegato dal centauro Nesso mentre mi portava sulla sua groppa. Poi egli si girò in avanti e proseguendo attraversò sicuro il flegetonte fiume di sangue.